Oh, bene! Più o meno ho capito come controllare questo affare. Sono il grande Daruk e non posso sfigurare davanti agli altri tre campioni. Devo tenere alto l'onore del granitico popolo dei Koron. Certo che la vista da qui è bella tosta. Guarda su quella cresta, quante rocce croccanti! Non ho idea di cosa sia questa calamità, Ganon. Ma proteggerò questo panorama con tutte le mie forze. Dico bene, ragazzino? A proposito, ho saputo che il re di Rule ti ha incaricato di proteggere la principessa. Complimenti, è un grande onore. Bravo, roccia! Devo dire che la principessa ha un bel caratterino e a volte è un po' severa. Soprattutto con te. Che succede? Oh, ci è mancato poco. Che succede? Eppure il Monte Morte dormiva da decenni ormai. Certo che se la montagna si agita a tal punto da perdere enormi massi. No, non può essere.